Ciao a tutti, io sono Andrea e vi do il benvenuto sul mio canale, spero vi piaccia il mio nuovo video. Oggi ci trasferiamo in Svezia, paese che di certo non è noto per l'alto tasso di criminalità o è considerato un posto pericoloso in cui vivere. Quindi, quando si verifica un fatto di cronaca nera, di sicuro questo ottiene molta pubblicità. E questo caso si svolge proprio in una piccolissima città della Svezia, Lofthammer, all'epoca abitata da circa 400 persone. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento e un like se il video vi ha interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Agneta Westmuld, 63 anni, nel settembre del 2008 uscì a portare il cagnolino di famiglia a fare una passeggera tra i boschi, come faceva normalmente, ma non tornò mai a casa. Suo marito Ingmar, 69 anni, preoccupato, andò a cercarla per assicurarsi che stesse bene e la ritrovò vicino a un piccolo lago con delle ferite orribili sul suo corpo e sulla sua testa. Sembrava fosse stata appicchiata selvaticamente, tanto da renderla quasi irriconoscibile. Ma chi avrebbe mai potuto fare del male ad una tranquilla signora in un tranquillo pomeriggio di settembre di una fin troppo tranquilla cittadina svedese? Ingmar si recò subito alla polizia a denunciare il crimine e la polizia, per tutta risposta, lo arrestò istantaneamente. Olè, così. Bah. Come ho detto in una città così piccola, in cui un crimine come quello era molto raro, la polizia, che non ha la minima idea di cosa fare, può solo presumere che il colpevole sia stato lui. Per fortuna la signora non aveva il maggiordomo. Per fortuna per il maggiordomo, intendo. Ora, visto che si dice il paese piccolo e la gente mormora, cominciò a sporgersi la voce che Agneta e Ingmar litigassero spesso, il che avrebbe dato all'uomo un movente, mentre l'opportunità gli si sarebbe presentata quando la donna era uscita a portare a spasso il suo cane da sola nei boschi. In genere, poi, nelle indagini di omicidio, il coniuge è al primo posto fra i sospettati. Trovandosi davanti ad un crimine così efferato, ritenono che tanta aggressività non potesse essere attribuita semplicemente ad un pazzo assassino in giro per i boschi ad uccidere a caso. Il corpo di Agneta fu sottoposto ad un esame autoptico e il medico legale rinvenne della saliva e peli di animali che presunse appartenessero al suo cane, che aveva cercato di salvarla a modo suo, magari leccandola. Le ferite da corpo contundente e i tagli sul corpo della donna furono invece attribuiti ad un attacco violento perpetrato contro di lei da suo marito. La conclusione della polizia fu che Ingmar l'avesse seguita fino al lago e l'avesse picchiata oppure che l'avesse uccisa da qualche altra parte e poi avesse scaricato il suo corpo vicino al lago. Il medico legale che esaminò Agneta ritenne che le ferite che le erano state inferte potessero corrispondere al coltello rotante di un attrezzo che poteva essere un tosaerba. Beh, suo marito aveva falciato il prato proprio quel giorno con un tosaerba. Beh, con un trapano sarebbe stata dura, eh? Caso incredibile, sulle lame del tosaerba di Ingmar gli esperti della scientifica trovarono del sangue, per questo l'anziano coniuge, fu trattenuto in prigione. La donna però era stata rinvenuta a quasi un chilometro da casa e, in base alla scena del crimine, sembrava che il delitto fosse avvenuto proprio lì dove era stata trovata. Perciò il marito come aveva fatto ad ucciderla con un tosaerba? Aveva guidato o spinto il macchinario fino al luogo del ritrovamento? E poi l'aveva inseguito a folle velocità, circa 5 chilometri allora, travolgendola di sorpresa per poi tornare indietro inosservato? Oppure l'aveva stordita, buttata a terra e solo dopo falciata a casa sua e poi aveva portato il corpo martoriato da casa al bosco, sempre inosservato e riuscendo a non versare il liquido ematico nel suo giardino né sui suoi vestiti? Non lo so, non mi ritengo un genere del crimine, però personalmente tra tutte le armi possibili e pensabili non sceglierei un tosaerba, non so voi. Certo, sicuramente ci saranno stati dei casi di incidenti mortali causati da un tosaerba, ma di incidenti parliamo. Non ho mai letto sui giornali il mostro del tosaerba colpisce ancora, le aiuole tremano, la comunità AGPCP, aiuole, giardini, piazzole, campetti e prati chiedono più protezione alla polizia. Dopo aver trascorso dieci giorni in prigione, Ingmar fu rilasciato perché le prove su di lui erano puramente indiziarie ed insufficienti per trattenerlo e soprattutto, colpo di scena, il sangue rinvenuto sul tosaerba era di animale, probabilmente un piccolo animale che aveva involontariamente investito falciando il prato. L'uomo rimase un sospetto per altri cinque mesi prima che gli inquirenti lasciassero formalmente cadere le accuse contro di lui, ma la polizia trascurò di dire ad Ingmar e soprattutto ai media che lo avevano completamente scagionato dall'accusa di aver ucciso sua moglie, perciò il povero Ingmar rimase per molto tempo un emarginato nella sua comunità. Nessuno voleva avere a che fare con un uomo sospettato di aver ucciso la moglie. Ma quindi cos'era successo ad Agneta? La svolta arrivò quando finalmente furono esaminati più accuratamente i suoi vestiti. La polizia convocò una conferenza stampa e comunicò i risultati delle analisi. Il portavoce della polizia, Euliff Carlson, disse che l'improbabile era diventato probabile. Quello che precedentemente era stato da loro considerato un omicidio, si era rivelato invece un tragico incidente. I peli e la saliva sui vestiti di Agneta non appartenevano al suo cane, ma ad un alce europeo che, secondo la ricostruzione dei fatti, aveva mangiato mele fermentate e di conseguenza era ubriaco come una scimmia. Il cane di Agneta, un esserino piccolino, ma lo sapete più piccoli sono e più sono fastidiosi e impertinenti. Probabilmente aveva iniziato a scagliarsi contro di lui, cosa che normalmente non sarebbe un problema, ma l'alce, essendo ubriaco o comunque molto spaventato, aveva attaccato Agneta uccidendola in un modo atroce. Gli alci di solito sono creature estremamente docili e non attaccano quasi mai agli umani. C'erano stati pochissimi casi di Svezia di alci che avevano ucciso qualcuno. Certo, pensare ad un alce ubriaco sembra esilarante, ma sono sicuro che se ci trovassimo di fronte ad un quadrupede di 800 chili che ci guarda in Cagnesco, ubriaco o no non rideremmo poi tanto. La ricostruzione è dell'incredibile, anche perché come avevano fatto a sapere che l'alce era ubriaco per aver mangiato delle mele fermentate? Ovviamente dall'analisi della saliva che aveva lasciato sul corpo della povera malcapitata, che era stata colpita con forza con le corna, gettata a terra e calpestata. In ogni caso, a prescindere dal fatto che fosse un ubriaco, se l'alce avesse attaccato la donna il risultato sarebbe stato lo stesso. Ingmar non avrebbe mai potuto colpirla così forte. L'uomo finì per citare in giudizio le forze dell'ordine per averlo falsamente accusato ed arrestato. Moltissime persone però pensano ancora che sia stato lui ad uccidere sua moglie. Per quanto riguarda l'alce avvinazzato, a meno che un lupo o un cacciatore non l'abbiano già uccisa, è ancora in libertà a cercare nuove prede. Non abbiamo notizie sul cane. Per oggi ci fermiamo qui, vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre e soprattutto in questo periodo, occhio ad anziani rubicondi, vestiti di rosso, che guidano slitte trainate da renne, perché la famiglia è sempre quella, renne o dalci, sempre dedite ai bagordi ed al cicchetto facile sono. Ciao e buone feste.